L'ex ipodromo Villa delle Rose sarà inaccessibile per gli spettacoli pirotecnici delle feste di settembre. Lo ha detto il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, nella conferenza stampa di presentazione del cartellone completo degli appuntamenti. Le tecniche di canchiere, ha confermato il primo cittadino, non consentono l'accesso dei 1900 spettatori come avvenuto in questi ultimi anni. E' un dazio da pagare quest'ultimo anno perché chiaramente fra un paio di mesi le tribune saranno disponibili e quindi le prossime feste di settembre rivedranno finalmente i cittadini di Lanciano potersi sedere e vedere lo spazio privilegiato, quel punto privilegiato, i fuochi artificiali. Confermate le serate clou annunciate già nei mesi scorsi con la presenza degli Hut Neutrols il 14 settembre, di Dodi Battaglia il 15 e di Alex Briti il 16. Il presidente del comitato feste, Maurizio Trevisan, ha annunciato la collocazione della cassa armonica per le esibizioni della banda Città di Fossacesia in Largo San Giovanni nel quartiere storico di Lanciano Vecchia, mentre nel piazzale della vecchia stazione si svolgerà il gran gala delle orchestre e ballo in piazza nella nottata del 13. Sempre nella notte dell'apertura doppio appuntamento in piazza Plebiscito con Abruzzo nel cuore e a seguire DJ set. Confermata la presenza del Luna Park al terminal degli autobus di piazzale Memmo, l'appuntamento con i fuochi d'artificio è stato scalato a mezzanotte e mezza per tutte e tre le sere. I fuochi d'apertura sono invece confermati alle 4 del mattino. Ci saranno tanti appuntamenti quasi tutti i giorni in piazza e che vedranno impegnati artisti locali e associazioni che con le loro attività aglieteranno le serate che vanno dal primo al 12.